Non sembra. Padre, non ci faccia stare in pena. Padre, non ci faccia stare in pena. Ma che pena è pena, vi dirò tutto, sono qua per questo. Visto che il clero, se desidera dirci tutto, posso dichiarare aperta questa seduta straordinaria del Consiglio Comunale? Sì? Bene, dichiaro aperta la seduta, la parola al nostro buon curato. Bella giornata, eh? Ho l'impressione che il tempo si questerà. Adesso, leggio poi. E lei ci ha buttato giù dal letto per comunicare le lezioni meteorologiche? In un certo senso, ecco sì, brava, come fa? E allora? E allora vuole parlare? Ho parlato... Beh, allora? Ho parlato con Dio. Ma non ho capito bene l'ultima parola. Nemmeno io. Ho parlato con Dio e gli mi ha fidato un grande compito e bisogno del vostro aiuto. Sì, lo so che vi sembro pazzo, lo so, lo so, ma io non sono pazzo. Dio mi ha parlato davvero. Salve, calma, il calitato Silvestro è il vostro mestiere. E non è la prima volta che con la scusa delle esigenze divine lei tocca questa quattrini. Sì, ma non è la prima volta che con la scusa delle esigenze divine lei tocca questa quattrini. Sì, ma non è la prima volta.